Possiamo uscire da qui Non c'è modo di arrivarci Beh, io non so nuotare Ehi, forse ci porterà da qualche parte Inventarci qualcosa È incastrata Harry, fai una prova Ok Vado a vedere Tieni gli occhi aperti Vado a vedere Vado a vedere Vado a vedere Andiamo, Elvi No, ecco fatto A stupo Vediamo se il generatore è ancora pieno Tentare non muoce Tentare non muoce Già, ma non portare sfiga Forza Vado a vedere Vado a vedere Ehm, che storia è questa? Ci sarà gente Forse Forse Dobbiamo davvero entrare lì? Non abbiamo scelta Oh, scelta Oh, scelta Grappola sonora Una che? È una specie di allarme È una specie di allarme Io non sento niente Qualcuno viveva qui Ma non più a quanto pare Chi viverebbe qui dentro? Alcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo Fantastica Elvi, non... Ehm, rilassati Ehi, Sam Stai tra qui Sì Fale laggiù Ok Ah Sì Harry, hai visto? Senza far rumore Ok Sì Scusa Sì Quora Sì 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 C'è qui? Sì, sì, silenzio. Attenzione! Grazie. Sì, sì, sì. Visto che c'era un clipper, direi che hanno fatto una brutta fine da te. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. Speriamo solo che non ce ne siano altri. 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 Ehi, forse da lì si esce. Forse. Ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Harry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Andrà tutto bene? Sì, sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. Ok, ragazzo. Ok, ragazzo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì.